Ciao ragazze, allora scusatemi se non riesco a fare molti video, però come ho già detto ho iniziato a lavorare, faccio le supplenze al nido, quindi ho degli orari improbabili, impensabili, sono sempre da una parte all'altra, non resto mai nello stesso nido, non so mai i miei orari, non riesco mai a organizzarmi, non so neanche se la mattina vado meno a lavorare e quindi con l'università e tutto sono veramente abbastanza incasinata. Comunque, oggi sono qui per parlarvi di questo qui, Lemonade di Benefit, che è un primer, questo primer è un primer in crema ed è giallo, come potete vedere, è giallo, giallo, sembra tipo un correttore, ha lo specchietto e sembra tipo un correttore, però non è beige, è proprio giallo. E' giallo, non si riesce a vedere perché c'è troppa luce, o non ce l'è mai o ce l'è troppa. Comunque, io vi dico, questo primer, che è una base correttrice per le palpebre, io lo utilizzo tutti i giorni, ne basta veramente veramente appena un tocco, cioè basta veramente mettere soltanto, appoggiare il dito così, prenderne veramente un soffio e metterlo su tutta la palpebra. Questo, essendo giallognolo, copre il bluastro delle palpebre, perché comunque sappiamo che questa zona, è uscita proprio una zeta la bolognese, Comunque, la zona inferiore e la zona superiore tendenzialmente sono, diciamo, di una tonalità diversa dal resto del viso, quindi insomma, cercando di, con correttore adatti, si cerca appunto di coprire questa differenza di tonalità. Quindi, io mi trovo benissimo, mi trovo benissimo, sia come semplice base, ovvero per avere un colore uniforme su tutto il viso, perfetto, resta, guardate, io lo uso dalla mattina alle 7, che mi trucco, fino alla sera a mezzanotte. È normalissimo che una pieghetta, appena appena lieve, in mezzo ci sia, perché comunque stiamo parlando di un prodotto che è cremoso e che comunque non è miracoloso. Però, veramente, una pieghetta miserrima, cioè, veramente una... cioè, inesistente. Come tenuta, invece, degli ombretti, altrettanto, voto 10. Tiene l'ombretto, io l'ho tenuto l'ombretto tutto un giorno, perché mi ero truccata verso le 8, ero andata a lavorare, ero andata fuori la sera, che era un venerdì, perché ero andata a lavorare alle 10, quindi, sì. Ha tenuto, ovviamente, non con colori brillantissimi, come se l'avessi appena fatto, è normale, l'ho tenuto su 14 ore. Però, vi assicuro che i colori erano veramente, veramente belli, ve lo giuro, erano veramente belli. Questo, sì, io l'ho preso da Sephora e l'ho pagato sui 20 euro, mi sembra 22, 23, non ne sono sicura. Non ho provato altri primer che si sentono dire su YouTube, tipo, ad esempio, quello della Urban Decay Primer Potion, non l'ho provato, non ho provato quello dell'Elf, quindi non posso fare paragoni. Ho provato, però, quelli, diciamo, commerciali, che vendono nei negozi, tipo quello della Bottega Verde, quello della Sephora, proprio quello della Sephora, della linea Sephora. Questo, devo dire, che mi piace, perché ha questa doppia funzionalità. Ho notato che lo usa anche Giuliana, quindi, vuol dire che, io l'ho comprato prima di vederlo a lei, però, visto che l'ho visto anche a lei, c'ho un pelucco in un occhio. Va bene, io vi ho dato questi miei pensieri, vi ho detto quello che penso, ovviamente nessuno mi ha detto di dirvelo. Io ve lo dico perché, vi ripeto, mi sono trovata veramente, veramente bene. Niente, io vi lascio perché non so neanche quanti minuti siamo. Un grosso bacio e grazie ancora per tutte le nuove iscrizioni. Grazie alle vecchie iscritte e grazie alle nuove iscritte. E una promessa, ho avuto molte, molte richieste, io vi prometto, guardate, me le sono segnate qui, non si vedono, ecco, vedete? Me le sono segnate, le tengo a metà del PC, così che tutte le volte che lo apro le vedo, lo so che devo farvele, devo soltanto trovare il tempo. Vi ringrazio per la cortese attenzione e la cortese pazienza che voi ci metterete nell'attesa. E vi saluto, un grande bacio a tutti, ciao!